Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico video scelta di tutti i miei cani astag lupo astag cane volevo dire astag lupo come volevo dire mettere il colicino mi piace? mi piace o no? cerco avanti i diamanti quante roba qua è molto importante abbiamo tutta questa roba qua aspettate che mi metto tutta questa roba qua dentro ah raga oggi farò un video su come costruire una vasca aspettatemi ah una doccia cioè prima dobbiamo arrivare al giorno il comodo che dormite dentro una miniera no? guardate dentro una miniera dentro un buco no? dentro un buco di una montagna sto qua scendo guardate sto dentro dentro un buco di una montagna sto dentro un buco di una montagna vedete però adesso dobbiamo spostare il letto dove lo mettiamo? ah qua toglietevi dove lo devo mettere secondo voi il letto? wow ho avuto ragione va bene yeeey wow questo qua non è intelligente questo qua questo qua che mi sta guardando adesso questo qua che si gira da momo è intelligente ha detto mettilo qua il letto è intelligente devi chiamare intelligente devo chiamare intelligente adesso spacchiamo un po' a fare un accesso in minecraft vals raga due tre allora no ci vogliono che faccio due posti un posto per respirare un posto per l'acqua un posto per respirare un posto per respirare segnalare sempre dei piccoli a presse dei piccoli a presse facciamo così facciamo bene facciamo benissimo adesso dobbiamo prendere un paio di secchi d'acqua qua 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 dove sta sta qua? oh dove cavolo sta il secchio? oh 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 ah eccolo non so allora che ci serve allora mettete la cocco ecco ecco poi aspettatevi la porta uno due ora sto facendo un bugio così non è che vi voglio far vedere così me la faccio pure io anche se non mi serve uno però se vuoi ha bisogno sempre che è piccone bravo vi do un consiglio dopo le nuove cose che andate nell'acqua vi dovete sempre togliere i vestiti non è che si bagnano perché sennò poi mmm si rompono ah il piccone dove sta? ah sono tutto sudato adesso mi faccio una doccia dai faccio una doccia vuoi far vedere ah 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 devo respirare? ah ecco qua c'è sempre la mano un piccone a presto quanto durate il video? 5? così poco raga però non è finito dai facciamo che non è finito allora raga voi volete volete avere un cesso? voi volete avere? voi volete avere un cesso? aspettate eccolo qua aspettate sembra che qua sembra che qua faccio così mettiamo un attimo così sembra che qua è lo scarico quello scarico raga è secchio è secchio lo scarico raga guarda qua guarda qua che fare? porca troia questo è mio mamma mia questo è mio guarda che rumore questo è quello scarico mi piace e adesso lo metto così e così perché vuoi raga devo farla qua fatto aspetta devo tirare lo scarico raga devo tirare lo scarico e poi secchio ah ah fatto raga vi piace sti invenzioni che ho fatto? ehm poi facciamo un'altra invenzione che cazzo cosa da fare la pietra un'altra invenzione raga noi possiamo lavare i panni raga dove facciamo le cose per lavare i panni? cazzo 能 facciamo ancora qua 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 facciamo di un blocco più grande qua va bene va bene va bene va bene raga va bene 1,2,3 1,2,3 facciamo così taglio un attimo raga dobbiamo graffitare anche altre scale quelle si parla di legno di pietra queste qua qua tre scale dobbiamo graffitare anche le altre se volete graffitare che mi stanno vedendo la cesta allora raga invece si lavano nei panni aspetta però facciamolo così no dai raga sembra la vera lavatrice ci manca soltanto la botola raga la botola è un blocco di legno sanzo chiamiamo raga oh no raga raga questa acqua non avere proprio lavatrice aspetta però devo mettere l'acqua dentro raga 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 vedete come è bella raga 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 è bellissima raga raga è bellissima raga buttiamo qualcosa dentro allora allora no ve l'ho detto che questi non devono stare nell'acqua vabbè raga è soltanto quella di pelle mettete però quella di diamante di peso no però se siete tirchi li volete buttare così lo fate vedete qua che figata aspettate però dovete centrare cavolo qua è brutto ecco qua fatto per riprenderli aggia dovete no dovete scavare un po' qua come raga come raga che resta fatica allora raga io aspettate aspettate un attimo vediamo giocatore come fare gioco facciamo anche da da vedere più carino non 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 è bene raga riesco di poco bene no cosa non dobbiamo fare questa cosa qua guarda signora botola però non rompere i coglioni signora botola quindi c'è 34 secondi video no che cazzo ho fatto no raga se volete fare una vasca da bagno dovete fare così piccola è una vasca da bagno la lavatrice dovete fare così piccola così piccola così poi buttate questo dentro la prendeci subito facete due secondi no raga forse forse cos'idea o bella non c'entra qua non c'entra non c'entra non va bene se è brutto da qua raga vedo perché è bello è qua fate così 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 è proprio bellezza mettete sempre le cose in forno così è più bella raga fatela così vi consiglio di farla così allora raga mettete tante volle su iscrivetevi al canale condividete con tutti i vostri amici ci vediamo al prossimo video ci vediamo al prossimo video ciao ciao Aspettate raga scusate ciao ciao